Sono Attilio Di Mattia. Oggi voglio prendere un impegno preciso con ognuno di voi. Se mi sceglierete come sindaco, mi batterò con tutte le mie forze contro sprechi e privilegi. Se tutta la città si stringe attorno ad un progetto di rinascita, se uniamo le nostre forze per un cambiamento vero, sono certo che riusciremo ad ottenerlo. Monte Silvano cambia! Monte Silvano